Sì esatto, siamo proprio con chi sta decidendo questo match, un gol importante, ci ho riprovato in più occasioni, sei stato uno dei migliori della Juve di questo primo tempo, intanto è arrivato un gol molto importante, state giocando bene, ma l'Empore è una squadra sicuramente tosta. Sono molto contento perché ho fatto il mio primo gol a Pionato, voglio sempre aiutare la mia squadra per vincere, siamo la Juve e dobbiamo vincere in tutte le partite e sono molto contento per questo. Quando te ne sei andato dal Panathinaikos dove sei cresciuto nel settore giovanile hai scelto la Juve su tante altre richieste, magari anche dall'estero, comunque in Inghilterra e in altre zone, perché hai scelto la Juve? Perché la Juve è una grande squadra, tipo Juve è sempre e mi piace essere qua. Allora bocca a lui, grazie a te. Grazie allora!